Dopo il rigore tu sei andato subito a prendere il pallone, ho detto vorrei calciarlo io e Marco Lini è stato anche bravo. Ho chiesto favore da lui, quindi mi ha dato il segno di andare a tirare, quindi sono contento. Ci teneva a tirare, me l'ha chiesto, è comunque meglio avere un'obbina sui giri perché ha trovato il gol dopo una grandissima prestazione, che comunque è un Marco Lini che ha fatto doppietta, ma alla fine onestamente non mi cambia niente, bisogna sempre cercare di pensare bene della squadra. Per raggiungere il 4-8 gol per me sarebbe stato bello perché comunque inizia ad essere un bottino importante, però alla fine l'ho detto, veramente è più importante avere hobby sui giri perché continua a trovare il gol con continuità che io aver fatto doppietta. Il fatto che ogni tanto festeggi a modo ottimo e a priori, altre volte no, da cosa dipende? Soprattutto oggi mi sentivo di falla perché ogni volta che passo alla città, che faccio un passeggio lì al centro, soprattutto i bambini mi chiedono dai fai la copriola per noi perché loro piacciono. Ecco, quindi soprattutto ho fatto questi capriole per i bambini. Hai dato un 5 a Dazzi o no? No, anzi, sono andato a fine primo tempo comunque a rincuorarlo un po'. Capita di fare qualche errore, mi dispiace perché è un ragazzo giovane, però insomma, tante volte mi è andata male che i portieri mi hanno fatto delle grandi parate, quindi oggi mi è andata meglio. Insomma, qualche volta bisogna prendersi anche qualche soddisfazione. Sono contento soprattutto perché è più importante pensare alla squadra, sia che guardare le cose personali. Ecco, oggi sono contento per Sergio come abbiamo fatto questi assist per lui perché è stato veramente bravo a conquistare i sal. Grazie. 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 Grazie.